Un caprone scamosciato alpino di 60 kg simile ad uno stambecco è stato notato passeggiare nelle campagne di San Donnino a Modena. Era due passi dalle corse dell'autostrada protette da una recinzione di circa un metro che l'animale avrebbe potuto agevolmente saltare. Per questo i residenti della zona che lo hanno visto correre e saltare tra gli alberi hanno cercato di allontanarlo dalla strada riuscendo però solamente ad innervosirlo. Avvertito comune di Modena e Asle sul posto sono arrivati i volontari del pettirosso ma anche gli esperti della fauna selvatica hanno dovuto faticare per riuscire a bloccare il maestoso animale che vive abitualmente sulle vette delle Alpi. Lo stambecco è stato narcotizzato, visitato da un veterinario e potrà tornare libero a casa lontano dalle strade. È possibile che l'animale fosse detenuto illegalmente in zona da un privato.